Calcio arriva a triplice fischio, gli azzurri terminano a digiuno di successi, vittoria in trasferta contro il Nebros. Il città di Siracusa rompe il digiuno e torna alla vittoria, superando 2-1 in trasferta il Nebros. Il tecnico Mascara cambia qualche interprete e lo schieramento iniziale rispetto alle ultime uscite. Maglia titolare per Rossitto e De Manuele, preferite a Montagna e Mascara. Catania fa la prima punta, alternandosi con il giocatore con la maglia numero 9, che dopo un giro di lancette lancia a botta sicuro da ottima posizione, trovando l'opposizione nel portiere Lomonaco. Il talento reduzione non sbaglia al secondo tentativo, quando su cross da destra di Schisciano gira di testa a rete portando avanti la sua squadra. Il Nebros reagisce e al diciottesimo ci vuole un grande saitta per evitare il pari sull'inzuccante dei Fioretti e sugli sviluppi di un angolo da destra. Scampato il pericolo, gli azzurri tornano a giocare su buoni livelli, facendo girare palle e sfruttando le corsie laterali. Al trentacinquesimo De Manuele liberato in aria, salta secco un avversario che lo stende. L'arbitro concede il rigole che Catania non fallisce. Prima dell'intervallo colpo di testa di Tricamo su angolo largo di un paio di metri. Poi si fa male Rossitto che lascia il posto a montagna. In avvio di ripresa, doppia occasione ravvicinata per i locali che trovano sulla loro strada un ottimo saitta. Bravo a dire di no su tiri ravvicinati dagli attaccanti messinesi. Il città di Siracusa si difende e prova a ripartire in contropiede. Al venticinquesimo De Manuele su punizione manda fuori di poco. Saitta respinge in angolo un tiro dalla distanza. Il Nebros attacca nel recupero a Fioretti e accorcia su rigore. Viene espulso Tricamo per fallo su Catania. Termina 1-2 e gli azzurri possono festeggiare una vittoria che mancava dallo scorso 12 dicembre contro il Real Siracusa Belvedere.